hello ciao a tutti stelline e benvenuti in questo nuovo video allora non fateci caso se mi vedete vestita nello stesso modo dell'altro video ma lo sto girando uno dietro l'altro perché mi sono ricordata dopo che mi avete chiesto delle cose riguardo alcuni prodotti e quindi ho aggiunto questo video che andiamo a vedere tra poco sigla come vedete sono in piena atmosfera natalizia mi sono vestita già di rosso oggi è stata una giornata stupenda qua ad alessandria c'era un sole meraviglioso e quindi sono uscita mi sono divertita ho visto le amiche e ho cominciato anche a comprare un po di regali perché giustamente altrimenti possa arrivare all'ultimo momento e non non si riesce più a prendere nulla una cosa che volevo dirvi per le ragazze che mi hanno scritto su instagram che volevano sapere di questo rossetto che io metto spesso qual è il rossetto questo di la vera ve lo faccio vedere eccolo qua è il numero 27 effettivamente è favoloso non so se lo vedete bene con questa luce però è stupendo davvero sembra un velluto sulle labbra è morbidissimo non lo sentite nemmeno e soprattutto ha una tenuta eccezionale quindi questo è il rossetto eventualmente poi ve lo metto sotto in info box per chi appunto lo vuole lo voleva sapere naturalmente se volete potete anche commentare farmi delle domande anche sotto nei commenti e io vi risponderò merito a questo prodotto che è veramente fantastico e quindi questo altra cosa gli orecchini che oggi ho messo di cui mi chiedevate questi filo presi ad alessandria bijou brigitte quindi e li ho presi qualche mese fa diciamo questi qui sono veramente carini in effetti ma siccome già diverse ragazze ne l'avete chiesto insomma ho deciso appunto di fare questo piccolo video per dirvelo e in questo video tra l'altro vorrei anche dirvi che per i prossimi giorni vorrei cominciare a far vedere un po di spacchettamenti un po di idee regalo perché anche questa è una cosa che a volte è un cruccio non sappiamo che cosa regalare abbiamo paura magari di regalare sempre le stesse cose e quindi diciamo che una un po di idee diciamo vorrei veramente condividerle con voi se l'idea vi può piacere se questa cosa vi può piacere quindi diciamo che i prossimi video potrebbero essere questi e per quanto riguarda invece il discorso addobbi addobbi natalizi anche di sotto in casa per esempio vi farò vedere un pochettino come abbiamo addobbato sia la sala che anche la cucina poi in giardino mio padre ha messo delle luci fantastiche quest'anno quindi se ci sarà occasione vi farò vedere anche quelle sono veramente spettacolari e questo video brevissimo era solamente per dirvi queste piccole cosette queste due cosette insomma ok quindi ora vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao